Ehi! Ti metto nel forno Ti metto in forno Ti metto in forno Bye! Ehi! 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 Grazie a tutti. Tu ne hai messo la frenza? Non ho visto la freccia, stavo andando dritto. La curva lì, siete quasi andati nella seconda corsa. Una curva molto stretta. Qua c'è una curva che va tranquillamente e poi taglia proprio a 180 gradi. Lì rischi di non prenderla e andare sulla seconda corsa. Andiamo. Andiamo avanti. Di là? Non lo so, siamo arrivati da lì. Andiamo di là a piedi. Vuoi andare su? Fanculo! Non le hai in mano prima, scusa. Le hai messi in tasca? Ti le ho viste in mano prima. L'hai perse? eh? ce le hai? grazie, mi sto ammazzando ci siamo vai avanti te non diremmo andare troppo lontano se dopo dobbiamo tornare indietro per la stessa strada al massimo andiamo fino a Melide e poi vediamo che ora è ok allora mi fermo Melide poi vedete ho dimenticato di allacciare il casco ok 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.